Buongiorno 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 Suratul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdu Lillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Al-Rahmanirrahim Al-Rahmanirrahim Yaqa nabudu Yaqa nasta'in In a Siratul Mustaqeem A Siratul Laveen Anamta alayhim غayril maghudubi alayhim waladzali Walhamu abbas Sawaaba Hadehi sura wa hazal Mujilis Ilha arwaahi Al-Mumineen wal-muminaat Bil-Aqas Shah Sahib ka naam Bil-Aqas Sayyid Sayyid Hashim Shah Sahib Qibla Koon Sayyid Kami Lajim Or A Stay-Sakty Sayyid 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 Salvat Ilha Sayyid Sa-Namul Ba-Namul bicara Or The Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 . Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.